Il ritiro sulla Montamiata Il ritiro sulla Montamiata Siamo un bel gruppo, mi sono subito trovato bene con i miei compagni Per adesso va tutto bene, sono la prima fase del ritiro Quindi è normale che si faccia un po' di fatica Facciamo un lavoro aerobico, senza palla Ma stiamo usando anche abbastanza il pallone Quali sono le sue caratteristiche? Io sono un centrocampista, una mezzala Il mio piede è al sinistro Ma posso giocare anche come mediano Le molle ti hanno fatto accettare le richieste di Azzori Le mie caratteristiche sono la corsa Quando sono al limite dell'aria L'anno scorso ho fatto sei gol in primavera Tirando dal limite Oppure con gli inserimenti Cosa ti ha spinto ad accettare questa proposta? Sicuramente anche il fatto che Siena è una bella piazza Poi Azzori è anche un bravissimo allenatore Era già a Spezia Sapevo che c'era, l'avevo conosciuto Che è una bella città, una piazza importante Le tue aspettative per questa stagione? Speriamo mi metto a disposizione della squadra E del mister Cerco di fare il meglio